Proseguono a rilento le operazioni di rimozione della posidonia oceanica accantonata sulla spiaggia della Marina presso il porto turistico di Agropoli. A lamentarsi i residenti che utilizzano la piccola spiaggetta del porto cilentano, anziani e cittadini che avrebbero voluto approfittare delle temperature estive di questi giorni per prendere un po' di sole o fare i primi bagni. Ma tutto ciò è impossibile in quanto la spiaggia sottostante la rupe del centro storico è interdetta all'utilizzo ormai da un mese e mezzo. Ad oggi, così come un mese fa, infatti, si presenta sormontata da posidonia in tutta la sua lunghezza. Il motivo dei ritardi viene spiegato dall'assessore al porto ed emanio Massimo Laporta. La ditta giudicataria dell'appalto sta avendo problemi nel dividere la sabbia dalle alghe e di conseguenza difficoltà nel conferire i rifiuti presso l'impianto di biomasse. Tale situazione potrebbe portare a prolungare le operazioni di rimozione fino ad estate inoltrata, causando ulteriori disagi sia ai fruitori della spiaggia sia al resort sito proprio sulla renile. Al di là del problema estetico c'è quello di carattere sanitario, in quanto le montagne di alghe sono divenute nel tempo tana per topi ed insetti. Vanno avanti lentamente anche i lavori anti-erosione del Lido Azzurro. Il termine dei lavori era fissato per gennaio scorso. Ad oggi è stato concluso solo un lato della pavimentazione e appena iniziato l'altro versante.